Appuntamento oggi, 17 aprile, sulle spiagge delle Saline e alla Pelosa, con la giornata di pulizia dei litorali, questo il primo evento distintino Plastic Free, la campagna che vede il Paese impegnato nella promozione di buone pratiche per il rispetto dell'ambiente e del mare. La nostra lotta contro l'inquinamento da plastica, affermano l'assessore alla pubblica istruzione Antonella Mariani e Martino Cugusi, consigliere con delega all'ambiente, la giornata di mercoledì rappresenta il normale proseguimento di queste azioni, nelle quali crediamo fortemente. È importante far capire che attraverso l'esperienza diretta alla portata del fenomeno che sta interessando i nostri mari e sensibilizzare così i giovani e le loro famiglie e i cittadini alla necessità di contrastare l'inquinamento da plastica. L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con le scuole di Stintino, il coordinatore del progetto europeo Life Sterna Danilo Pisu, la compagnia barraccellare di Stintino, il Museo della Tonnara, il Parco Nazionale dell'Asinara, Clean Sea Life, il Centro di Recupero Tartarughe Marine, Crama e la Lega Navale Italiana, Sezione Golfo dell'Asinara, e vedere impegnati i ragazzi delle scuole di Stintino, i cittadini e i volontari protagonisti insieme per la lotta all'inquinamento da plastica.